Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura, molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per settimane, si costruiscono baracche nelle periferie, quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti, si presentano in due e cercano una stanza con uso cucina e dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci, parlano lingue incomprensibili, forse dialetti, molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, spesso davanti alle chiese donne e uomini anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro, dicono che siano dediti al furto e si ostacolati violenti. Le nostre donne li evitano sia perché sono poco attraenti e selvatici sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano da lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Bene, queste non sono le parole di Salvini. Sapete che cosa sono queste qua? Le parole con cui l'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso degli Stati Uniti descriveva gli italiani. Nel 1919, quando tutti gli italiani emigravano, gli Stati Uniti ci descrivevano così a quelli come me e a quelli come Salvini. Allora, siccome c'è qualcuno che ha perso la memoria, io a questo punto leggerei una bella poesia di Trilussa che si chiama L'Orco innamorato? Sì! Mi va? Sì! 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 Si te va? Sì! Guarda, leggiamo, è una bella storia. Allora, c'era una volta un orco che andava appresso a una ragazza onesta. Quella gli disse, che ti sei messo in testa? Vuoi che mi sposi un uomo così porco? Madonna mia ci mancherebbe questa. Sì, fece l'Orco, che non era amico. So stato un birbaccione, non lo nego. Ma mo' però, so diventato ricco, rifascio il galantomo e me ne frego! Lei sospirò. Ma che dirà la gente quando saprà che un vecchio farbutto si è unito con un'anima innocente. Bisognerebbe vivere in qualche sito dove si scorda tutto. Tanto è bene che è male, tanto è bene che è brutto. Ho inteso che nel bosco c'è una fata che è rinomata assai per un decotto di erbe di ogni mese. Una cicoria che fa debotto perde la memoria. l'Orco scrocchiò i denti e gli ha rispose, senza che cerca l'erba di ogni mese, a Armonno c'è un bellissimo paese dove non si ricordano le cose. Qual è? L'Italia! e la ragazza onesta fece di sì tre volte con la testa. E' piaciuto? Sì! Salmini! Tornatevi a casa che tutti ci volemo! Sì!